L'emergenza siccità che sta interessando la Sicilia ci vede impegnati quotidianamente a tutela degli agricoltori dell'isola in primo luogo, ma anche di tutte le categorie danneggiate e dei cittadini in generale. Lo ha dichiarato il presidente della regione siciliana Renato Schifani. Sono numerosi i provvedimenti, ha aggiunto il governatore, che il mio governo ha già messo in atto come l'istituzione di una unità di crisi dedicata che è già al lavoro e altri ne seguiranno poiché il nostro obiettivo è quello di affrontare l'emergenza con determinazione e incisività. A questo scopo è fondamentale il confronto continuo e la collaborazione con il governo nazionale. In rappresentanza del governo regionale, il vicepresidente della regione, Luca Sanmartino, ha incontrato a Roma il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida. Ho chiesto, ha affermato Sanmartino, assessorato all'agricoltura del governo Schifani, la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per la siccità. La situazione senza precedenti che vive la nostra regione necessita di interventi straordinari per la salvaguardia del sistema agricolo siciliano, ha sottolineato Sanmartino.